Ora 21 in punto, ben ritrovati, buon giovedì con la rubrica TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Carapaz, Indre o Michellanda? Da questi tre nomi uscirà il vincitore di Verona domenica aspettando le due tappe che restano e più la cronometra dell'ultimo giorno. Dato forfè per positività al Covid, Joao Almeida, oggi vittoria di De Bonti in una tappa che doveva essere, non dico di trasferimento, però non così sconvolgente invece è stata anche oggi una tappa animata, molto animata, è arrivata la fuga avvento il corridore dell'Alpesine e quindi fa triste insieme alle vittorie di Vanderpool e di Oldani battendo in volata Edoardo Affini. Ne parleremo ovviamente, lo sguardo sarà rivolto sia all'indietro, al successo di Giulio Ciccone a Cogne di domenica sia alle salite che verranno e che decideranno con ogni probabilità il giro numero 105. Lo faremo con voi qualora lo vogliate al 392-723-7060 con gli ospiti tanti che si atteneranno questa sera. Grazie soprattutto alla preparazione della trasmissione per cui devo ringraziare come di consueto il passo. Mi sono fatto un autogancio, un auto assist, l'ideatore della trasmissione Luciano Robottini. Ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Buonasera a te, ritrovo con piacere Ruggero Marzoli. Ciao Ruggero. Buonasera a voi ragazzi. E poi in piattaforma Riccardo Magrini. Ciao Riccardo. Buonasera a tutti. Oh, noi volevamo fare una cosa. Adesso Maurizio vi perdonerà, vi faccio una cosa che normalmente non si fa, cioè esco da inquadratura. volevamo fare, ieri l'avevamo studiata, volevamo fare una gag che poi non ci è riuscita perché questa mattina Maurizio mi allontano un attimo, volevamo far vedere una cosa, volevamo attaccare rispetto alla mia posizione questa cosa qui perché non si stacca mai, non si staccava mai almeno sulla salò aprica. Volevamo metterla lì dietro e fare che Almeida praticamente ce l'avevamo sempre alle spalle, non abbiamo fatto neanche in tempo a studiarla, questa cosa avevamo ritagliato tutta la sua sagoma che Almeida è tornato a casa per il Covid. Buona guarigione, Joao! Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, Whatsapp o SMS e che potete seguirci oltre che sul canale 13 del Digitale del Resto in alta definizione per gli abitanti di Abruzzo e Molise, anche sulle piattaforme Facebook, sulla nostra pagina Facebook di TV6 e di Veloci. Fa particolarmente dispiacere Luciano perché il tuo Joao purtroppo, però ieri l'avevamo visto un po' in difficoltà poi oggi abbiamo capito perché. In difficoltà, in difficoltà se hai il Covid probabilmente anche lo covava da qualche giorno precedente alla giornata di oggi quindi probabilmente le sue performance non erano quelle che avevamo visto sul Blockhouse. Comunque gli auguriamo veramente di riprendersi presto e lui sarà un corridore molto utile per i grossi impegni della UAE nelle grandi corse a tappe con Pogacar. Quindi veramente un forte in bocca al lupo. Eh sì, anche perché l'altro giorno Riccardo sembrava sempre sul punto di alzare bandiera bianca e invece ha tenuto duro, durissimo. Ma sai, questa cosa qua dispiace perché poi fondamentalmente, come ha detto bene Luciano, è probabile che queste sue prestazioni siano state segnate un po' anche dal Covid perché lui normalmente su Blockhouse era rimasto là davanti, sulle salite magari scatta scatta però ci poteva stare. Quindi dispiace perché perdere un corridore così per un motivo purtroppo che c'è, è un monito credo che sia un monito dall'alto che non bisogna mai abbassare la guardia in questo caso. Assolutamente. Spiazze come direbbe un allenatore a cui sono particolarmente legato però Maurizio mi ricorda che saluto in regia che questo è pur sempre l'anteprima. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco ve lo numero 13. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Da oggi Casa Della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in Centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa Della Batteria, fermati con fiducia, troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com, Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Pronti a partire per questo appuntamento numero 13 con la rubrica ITV6 dedicata al mondo del ciclismo. Ovviamente è inutile che vi dica quale sarà l'argomento centrale della serata, il Giro d'Italia, che si avvia verso la conclusione. Dall'otto dei tre che vi ho detto nell'anteprima uscirà il vincitore della Corsa Rosa numero 105. Intanto, rispetto agli ospiti che vi avevamo presentato prima della pubblicità, si è aggiunto, lo saluto, lo ringraziamo ovviamente per essere qui con noi. Cristiano Gatti, giornalista, scrittore, segue il Giro d'Italia per tutto BC Web. Buonasera. Buonasera a tutti. Tra poco veniamo da lei per un giudizio su questo giro, anzi su questi giri, due, che più o meno mi pare di aver capito ha individuato in questi giorni. Però, intanto vado da Riccardo per chiedergli a Riccardo, ma a questo punto chi è il favorito per vincere il Giro d'Italia? Cristiano Gatti, è l'unico che può vincere questo Giro d'Italia. Di sicuro con la penna è superiore, con gli scatti nettamente superiori rispetto a quelli che si vedono in televisione. Non lo so Jacopo, io credo che il favorito a questo punto sia Carapazza, perché lo vedo pedalare un pochino meglio rispetto a due o tre giorni fa, che l'avevo visto un po' in difficoltà. Però io mi aspetto anche Indri che veramente sta pedalando, secondo me, meglio di lui, ma deve avere un po' di coraggio, perché altrimenti arriverà a Verona con un esiguo vantaggio o comunque poco vantaggio, perché io sono convinto che o domani o dopo prende la maglia rosa e non gli sarà sufficiente come quella volta là con Gegenhart. Landa dice, 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 però poi dopo telefona a casa, poi telefona a Pulse, poi telefona a Bilbao. Prima di fare uno scatto diventa improbabile. Tutti i landisti dicono, ah, landa forte, vincerà sicuramente. Mi sembra un po' improbabile. Per me il favorito è solamente una questione di cronometro, che è Carapazza, ma potrebbe anche uscire fuori la sorpresa Indri, perché poi tanto sorpresa non è, perché è arrivato già a seconda a un giro d'Italia. Ma a cronometro, sinceramente, penso che anche la scena di oggi, dopo l'arrivo, quando Carapazza faceva il defaticamento sui rulli con la bicicletta a cronometro, è significativo, secondo me è una sfumatura che forse non tutti l'hanno colta, ma lui già prepara la cronometro e si abitua al bolide Pinarello, che gli permetterà probabilmente di fare una prestazione superiore. Si equivalgono i due, non è che uno è più forte dell'altro. La cronometro, credo, forse un pochino di più possa andare Carapazza. Peraltro, anche solo per un punto di vista statistico, insomma, Carapazza, la cronometro dell'Arena di Verona, quantomeno gli porta bene. Siccome hai parlato di secondi che separano Carapazza e Indri, vado proprio da Cristiano Gatti per questi famigerati tre secondi, che sono in realtà la risultata di quella buona nella Sant'Arcangelo-Reggio Emilia. Ora, lo diciamo perché magari chi è appassionato di ciclismo è impossibile che non abbia letto gli ultimi articoli di Cristiano Gatti, soprattutto gli ultimi, in cui è stato un po' particolarmente salace rispetto all'interpretazione dei big di questa corsa rosa. Ha detto, insomma, diciamo che in questo Giro d'Italia non ci si stacca mai davanti, si stacca dietro. Scatti pochini, è anche vero che però si va molto forte. Prima di tutto ringraziamo il cielo di poter stare qui a parlare di ciclismo in questi modi, in questi toni, perché vuol dire che siamo tornati un po' nella normalità. Poi siccome a me piace esprimere l'opinione liberamente, dire quello che penso, qualche Giro d'Italia l'ho visto e di sicuro questo io non lo metterei tra i più belli che ho visto, lo metterei anche piuttosto in coda. Tu, gentilmente, prima ricordavi, io ho parlato di due giri, il Giro dei Cacciatori di Tappe secondo me è stato molto bello, va dato atto da Van Der Poel, ma anche a tutti gli altri, fino ai quattro ragazzi che oggi hanno resistito così bene, in una tappa di pianura, inseguiti dai velocisti. Comunque sono stati i Cacciatori di Tappe, questo giro particolare che non si cura della classifica. Io poi ho parlato, per estremizzare, per farmi capire, veramente di due sport diversi. Sono comunque due giri diversi, perché chi pensa alla fuga di giornata, chi pensa alla vittoria di tappa, può anche muoversi o comunque ha una logica tutta diversa di chi deve curare la classifica, lo capisce anche un bambino. Quello, torno a ripetere, a me ha soddisfatto pienamente, sono stati molto bravi, tutti i giorni hanno provato a fare le fughe, per cui nulla da dire. Invece ho molto da ridire sul Giro 1, quello dei cosiddetti Bigs, degli uomini di classifica, che effettivamente ripensando un po' al film di questo giro non hanno mai osato nulla. È vero, giusto il rilievo, che le medie sono alte, però bisogna anche dire che nelle occasioni in cui ti aspettavi almeno niente, non ha mai fatto nulla. Io l'unica fuga che considero tale, che ho segnato sul diario di viaggio, è quella di Carapazza a Torino, che peraltro poi è stata prontamente sventata e per cui è rientrata. Per il resto, niente da segnalare, da parte dei Big, torno a dire. Procedono con atteggiamento difensivo, procedono pensando sempre a domani o dopo domani, nelle prime due settimane dicevano che bisogna aspettare la terza settimana, adesso invece ti dicono che comincia a fiorare la stacchezza, bisogna stare attenti a non sprecare energie, e resta il fatto che il risultato non è un grande spettacolo, diciamolo. Ogni giro di solito porta a gala una bella rivalità, ma una rivalità fatta di attacchi, di controattacchi, e qui invece paradossalmente siamo nel giro considerato la corsa più dura del mondo, siamo qui a poche tappe dalla fine, a pochissime tappe dalla fine, a fare la differenza con i tre secondi di una tappa di pianura, la più piana che abbiamo avuto, come citavi, Sant'Arcangelo Reggio Emilia, in cui Carapazzo ha avuto la pensata di andare a farsi un traguardo volante, e si è preso quei tre secondi che adesso stanno facendo la storia del Giro d'Italia. Mi sembra molto emblematico, ed è anche molto bello, molto simbolico, secondo me, dell'intero andamento del Giro. Poi adesso ci hanno già detto che comunque sulla marmolada se ne daranno di santa ragione, quindi noi siamo qui fiduciosi ancora da aspettare. Già domani ci sarebbe terreno per fare qualcosa, soprattutto sulla salita slovena, che è Carogna, però ecco io già temo che domani ti dicassi, però il giorno dopo c'è la marmolada, quindi come fai a sprecare tutto, a esporti, e allora niente, non continuo a rimandare, sempre domani. Ok, chiarissimo. Luciano, te sei d'accordo con un'interpretazione che, perché poi bisogna anche dire una cosa, io ho letto veramente, ho letto anche l'ultimissimo articolo di Cristiano Gatti, che risponde un po' a Jacopo Guarnieri, che oggi ha fatto un tweet, io dico solo una cosa, io non vengo dal mondo del ciclismo, ne parlo solo, mi piace, sono innamorato di questo sport, però dire ogni volta che non si può parlare, perché un giornalista evidentemente non è stato ciclista, anche questa storia è abbastanza rotto, parentesi aperta e chiusa. Luciano? Allora, innanzitutto voglio ringraziare, do il buonasera a Cristiano Gatti, perché ti volevo in questa puntata di Velò, Cristiano, perché ogni sera quando torno a casa, dopo il lavoro, mi metto a leggere gli articoli che escono su Tutto Bici, e i tuoi veramente sono molto interessanti, con delle riflessioni, a volte anche piccanti, però veramente interessanti. Per quanto riguarda poi questo giro, questo giro, hai perfettamente ragione tu, probabilmente per quanto riguarda la classifica, c'è un tatticismo ancora molto presente, però in generale per quanto riguarda il giro, penso che sia stato fino adesso un giro molto bello, molto veloce, molto vivace, soprattutto c'è stato il grande ritorno del pubblico vicino al giro, quindi questo per noi che amiamo questo sport, è stato un segnale veramente molto, ma molto importante. Per quanto riguarda poi le ultime due tappe che avremo, sia quella di domani e dopo domani, sono d'accordo con te, perché quella di domani non dirà assolutamente niente, perché tutti aspetteranno la marmolata, ma anche sulla marmolata non è che ci possa essere un attacco a 6, 7, 8 km dalla vetta, ci sarà il famoso attacco a 2,5 km, 3 km, che però potrebbe essere sufficiente per fare la differenza, perché sappiamo tutti sulla marmolata se tu stacchi il tuo avversario di 50 metri, gli hai dato 15 secondi, se lo stacchi di 100 metri, gli hai dati 30, e quindi lì negli ultimi 2-3 km ci potrebbe essere la conclusione di questo giro. Sono convinto che il giro, non perché siamo affezionati ad Intley per i suoi trascorsi in Abruzzo, ma io sono convinto per come lo abbiamo visto pedalare in questi ultimi giorni, mi sembra che abbia qualcosa in più di Carapaz. E poi qualcuno dice, ma la cronometro di Verona potrebbe essere penalizzante per Intley. Io ritengo che l'ultima cronometro, sappiamo tutti che sull'ultima cronometro, quando viene fuori il corridore che ha qualcosa in più in questo momento, mi sembra che Intley rispetto a Carapaz abbia qualcosina in più, quindi lo vedo per la vittoria finale sul confronto di Carapaz un attimino avvantaggiato. Io prima di andare da Ruggero, volevo chiedere a Cristiano Gatti una curiosità, perché a questo punto l'analisi giornalistica ci sta, però volevo chiedergli se mi permetto di darti del tu, perché non riesco a tenere un'ora con il lei, mi perdonerai. Dove, secondo Cristiano Gatti, c'era la possibilità di rendere questo giro un po' più spettacolare e non è stato così? Guarda, finora le tappe più belle, secondo me, sono state due tappe nervose, non di montagna, che sono quelle di Napoli, dove abbiamo visto un grande Van Der Poel, abbiamo visto poi il seguito e bla bla. E l'altra, quella di Torino, dove invece sono entrati in scena un po' i favoriti e lì si è visto che volendo potevano anche un po' farsi del mare. Poi vabbè, il nostro Carapaz che aveva tentato la stessa cosa, se vi ricordate nella famosa fuga di Courmayeur nel giro del 2019, dietro aveva Nibali e Roglic che lo inseguivano, che non trovavano un accordo, anzi si facevano i dispetti, lui ne approfittò, non lo ripresero più e si mise in tasca al giro. Ecco, a Torino sembrava che fosse lo stesso film, lui aveva preso, se ne era andato, una cosa molto bella, e lì davvero ha usato. Però lì forse è venuto fuori il vero Carapaz, che non è lo stesso nel 2019, perché dobbiamo anche dire che questo livellamento, almeno a mio giudizio, è un livellamento un po' in un'aurea mediocrità, non è un livellamento in alto. Non è che i primi tre della classifica non riescono a farsi del male perché sono tutti tre fortissimi. La mia opinione, e ribadisco, è una mia opinione che può essere stupida, ma è un'opinione spero rispettabile, la mia opinione è che i loro tre si equivalgano a un livello non altissimo. Per cui è anche difficile pretendere che si diano sberle, si distacchino, si infliggano sonore. Li vedi sempre, li vedi sempre che si guardano, che stanno lì, anche quando mettono davanti la squadra, Landa è specialista, mette davanti la squadra, è una squadra anche molto forte, bella da vedere, però nel momento in cui deve tirare in porta, diremmo, non tira mai, al limite fa un allunghino che però non fa male a nessuno. Ecco, il terreno c'è stato, secondo me, dove c'erano un po' di salite, c'è stato ieri, per esempio, io ho scoperto, non l'avevo mai fatta, questa ultima salita che arrivava a Lavarone, era una sita molto molto bella, carogna, stretta, con pendenze e lì davvero uno che appena appena aveva qualcosa in più poteva lasciare il segno, far male. Invece si sono accontentati, avete visto, di ammarcarsi continuamente. Per cui qualcuno sostiene infatti che sia mancato il terreno, però secondo me, se vogliamo parlare di terreno, sono mancati i bravi contadini, nel senso che la tappa del blockhouse ce ne sono state, ma come avete visto hanno pensato alla tappa del Mortirollo, ovviamente, il tappone dell'altro giorno, hanno pensato solo a giocare in difesa e sparare i palloni in tribuna. Il problema è che così si arriva a Verona e allora davvero diventa decisivo un cronometro di 17 chilometri. Posso dire che da tifoso, da appassionato, da amante del giro e del ciclismo, io penso che noi tutti ci meritiamo di più e di meglio. Per cui io veramente spero che almeno sulla marmolada, anche a costo di rischiare di perdere il giro, però provino a rischiare di vincerselo come al modo dei campioni o comunque dei grandi corridori. Sottolineo, magari queste cose poi sfuggono, ma dei primi, dei big della classifica, nessuno ha vinto una tappa, vabbè, tranne Indley sul blockhouse che ha vinto in uno sprint. Questo la dice lunga, perché in un grande giro di solito almeno una o due tappe il leader, il campione impone la differenza. Lo vedi arrivare da solo con un primario, ma la differenza con gli altri la fa. Qui nessuno, mai, non c'è nessuno che vinca, che provi. Certo. Ruggero, allora, ti sei fatto un po' un'idea? È colpa del terreno o dei contadini? Ma vabbè... Riferendo la metafora. Innanzitutto ringrazio il signor Gatti di essere intervenuto in questa trasmissione, perché comunque dà sicuramente un valore aggiunto. Poi ho sentito anche le sue parole con un po' di amarezza, perché anch'io lo seguo sul web e magari leggendo poi anche, sì, io da ex corridore, quando ci sono delle critiche di natura sono sempre un po' in difesa degli atleti, perché comunque si fa fatica e poi effettivamente sì, non si attaccano, vanno su regolari, però c'è comunque tanta fatica. Però sento nella sua voce anche tanta amarezza, come se si aspettasse e anche il pubblico si aspettasse qualcosa in più. Io ripeto, a me piace questo giro, ma da ex atleta sono sempre un po' a favore dei corridori. È un giro che sicuramente per quanto riguarda i tre uomini più papabili della classifica si sono un attimino forse guardati più del dovuto. È vero che il loro livello non è al pari di corrido. Ma ti piace, prova di interpretare, mi perdonerà Cristiano Gatti se prova di interpretare, ma ti piace nella sua globalità, perché nella globalità anche con le azioni che ci sono state, le fughe che sono arrivate, quella vittoria di oggi di Debo, cioè ti piace il giro nella sua globalità, perché io credo che la critica che faccia Cristiano Gatti sia una parte, non sull'intera corsa. A me nella sua globalità, comunque il giro ha detto, comunque subito è uscito fuori di scena un Lopez, Dumoulin è saltato quasi subito, Yates, giornata di crisi e quindi pian piano abbiamo perso anche Yates. Adesso per un motivo diverso abbiamo perso anche Almeida, che comunque gli stavo facendo il tifo perché andava su di grinta. Ah, non perché ci licenziava, perché pure io facevo il tifo per Almeida, che era il suo preferito. Abbiamo ritrovato un uomo come Indle, sì, che aveva fatto seconda un giro d'Italia, ma che comunque ormai avevamo forse anche dimenticato e a vederlo è bello, pedala bene e secondo me, sono d'accordo con Luciano, potrebbe vincere veramente il giro. Abbiamo avuto ancora una conferma importante da Carapaz, perché comunque nonostante le sue vittorie, campione olimpico, terzo on tour, ci ritroviamo gli ultimi due o tre giorni con una classifica molto corta. Se pensiamo a tre o quattro giorni fa, avevamo in minuto e mezzo, due minuti, avevamo sette o otto corridori, adesso ne abbiamo tre in un minuto. Quindi è un giro che fino alla fine ci tiene attaccati allo schermo. È vero che non abbiamo visto molti attacchi, ma è vero pure che è un giro incerto, molto molto incerto. Abbiamo detto che Carapaz oggi ha fatto defaticamento con la bici da crono, quindi questo dice tutto. Dice che è possibile e pensabile che se la giochino lì, nonostante ci sono due tapponi importanti da qui a domenica. Certo. Riccardo, ci hanno scritto che il lato positivo è che se ci fosse stato Pogaciar non staremmo neanche più parlare, già staremmo pensando, faremmo i bilanci di come sono andati tutti quelli dietro Pogaciar. Ma allora, io sono d'accordo con Cristiano sui due giri perché effettivamente ti posso dire che la tappa più deludente per noi che la raccontiamo tutti i giorni su Eurosport è stato il tappone dell'Africa. Perché all'Africa, l'Africa si meritava, visto anche le salite che c'erano, si meritava un vincitore. Non che sia, per carica, tutto rispetto di Irte, però a 31 anni non ha mai vinto corse importanti. La prima corsa che vince, il secondo era Aresman. Io, come Luca e come anche Belù, che era con me, insomma, Vladimir Belli, ci aspettavamo qualcosa come diceva Cristiano, cioè fammi uno scatto, perlomeno fammi uno scatto. Poi però di contro devi raffrontarti con il fatto della grande velocità che viene mantenuta sulle salite, quindi sinceramente non sai più come prenderla, perché a 20 all'ora, ha fatto il mortirolo a 20 all'ora, è difficile anche scattare. Il problema è anche quello lì, fanno queste grandi medie, grandi velocità, è difficile anche scattarsi in faccia. Però io sono d'accordo perché un campione, bene o male, piuttosto rischia di perdere, ma almeno una botta la dà. L'Anda, te l'ho detto prima, fa tre telefonate, una telefona a Bilbao, poi telefona a casa per riposso e quell'altro telefona a Bilbao. Fax, niente? Com'è? Ah no, fax, sì, no, c'ha la telescrivente. Cioè voglio dire, tutte le volte che parte fa un allunghino e si gira, e si volta. Mi sembra Lopez, il Michelangelo, il pittore. Carapazze, c'è la maglia che dice che è a tappo con la maglia, però non stava bene Carapazze. Loro non hanno approfittato di due tappe secondo me fondamentali. Quella di Cogne, che poi anche lì, dici te, ha vinto Giulio. Tutti contenti, stracontenti, ma una palla mortale, perché questo è partito a 20 km dall'arrivo e non sapevi più che cosa dire con una fuga del resto, con tutto quello che vuoi. Cioè, se vogliamo andare a guardare lo spettacolo, ci sono state alcune tappe belle, spettacolari. Guarda che quella di oggi, secondo me, è stata spettacolare, perché non sapevi fino da ultimo se li riprendevano, se non li riprendevano, erano tutti lì, menavano come defabbri, dietro avevano le facce che sembrava che morissero da un momento all'altro e davanti pedalavano con grande facilità. Però fino da ultimo non sapevi se li prendevano o no. È stata nella sua semplicità di tappa. Era una tappa. Anche quella di Iesi? Lo stesso, ma allora mi viene il dubbio, ma che vale la pena fare tutte quelle salite, salitoni, che poi non succede niente, perché se vai a guardare, la tappa di Napoli su un circuito bellissimo è venuto fuori una bella tappa. La tappa di Torino, che era dura, veramente massacrante, ma non c'erano le montagne, c'erano due salite da affrontare su Perga e la Maddalena, l'inferno come lo chiamavano, con un'altra salitella, è venuto fuori una tappa meravigliosa, grazie anche al lavoro della Bora, ma anche lì ha ragione Cristiano, è partito Carapaz, magari anche forse sbagliando, però l'ha tentata almeno. C'è stato Vincenzo Nibali che ha risposto, Indri che… C'è stato un po' di movimento. Allora mi chiedo io e vi chiedo a voi, ma vale la pena fare tutte le volte tutte queste salite, montagne, per poi dopo avere questo risultato, che poi hanno tutti paura di fare una pedalata in più? Oh, peraltro mi fai un assist, perché vediamo l'altimetria di domani, si sconfina in territorio sloveno, c'è questo Kolovrat, che però è a 40 chilometri dal traguardo, è una salita poi la vedremo anche nel particolare, anche lì Luciano penso che… Sì, è una salita al 10% questo, per 10 chilometri, quindi è dura, però a 40 chilometri dall'arrivo, sempre per quei famosi tre personaggi che si contenderanno il giro, non penso che ci sia una grande battaglia. Io ritengo, come ho detto prima, che la battaglia verrà sopra la marmolata, però io voglio pensare che Carapaz ha grossi problemi in questo momento, sia lui che la squadra, perché Carapaz in questo Giro d'Italia poteva vincerlo, però poteva vincerlo sul bloccaus, poteva vincerlo nella tappa appunto di Torino, eppure ci ha provato a rimbalzato, quindi i piani tattici di questa squadra sono un po' preoccupati per questo finale di Giro d'Italia, perché effettivamente, però noi l'avevamo già detto all'inizio del Giro, perlomeno io l'avevo accennato, che la Ineos veniva al Giro con Carapaz, però Carapaz a me non mi dava quelle grosse garanzie, perché sì, aveva vinto un Giro, però sia il Giro che le Olimpiadi, vi avevo detto, era stato un corridore che aveva utilizzato molta abilità e intelligenza tattica, invece adesso ritrovandosi leader di questa grande squadra deve dimostrare di essere un campione e ad oggi non l'ha dimostrato, quindi lui deve ringraziare soprattutto Ricci Port che sul bloccaus ha fatto una grande salita, secondo me sarà il protagonista anche della tappa della marmolata, con la speranza che vada anche un po' più piano di come è andato Ricci Port perché altrimenti rischia di staccare anche Carapaz, quindi va gestito. Un po' come anni fa, ti ricordi Frum che staccò Wiggins a un Tour de France dove te ferma? Quindi anch'io per quanto riguarda sia la tappa di domani non vedo che ci possa essere una grande battaglia, noi ci auguriamo che però sono convinto che sulla marmolata a 3-4 km dalla vetta Indle o Carapaz o Landa faranno di tutto per darsi battaglia e cercare di arrivare sulla marmolata con qualche secondo pesante affrontare anche l'ultima cronometro con un po' di tranquillità. Anche se, come ripeto, a cronometro sui tre vincerà chi è più fresco. In questo momento mi sembra che il più fresco dei tre sia il giovane Indle e me lo agro perché potrebbe essere una dolce sorpresa per quello che avevamo visto da questo corridore due stagioni fa, l'anno scorso l'avevamo quasi dimenticato, però è un corridore di grandissima qualità e soprattutto di grande intelligenza tattica. Probabilmente è pilotato bene dall'ammiraglia perché anche ieri nella volata, perché nella volata di ieri Carapaz è riuscito a batterlo Indle, però io sono anche convinto che qualcuno gli abbia consigliato di stargli a ruota e tenerlo ancora lì in testa alla classifica. Poi la Ineos nel complesso di questo Giro d'Italia è stata anche molto fortunata perché ha avuto la possibilità di far controllare la corsa a una grande squadra come la Trek che gli ha dato una grossa mano. Quindi se noi provassimo a pensare che Carapaz sul blockhouse avesse preso la maglia rosa sarebbe stato molto ma molto complicato. Quindi ci apprestiamo a vivere queste belle due tappe con la speranza che quello che ci ha detto appunto Cristiano Gatti possa essere smentito dai fatti dei corridori. Oh siccome tra un po' lo salutiamo e lo ringraziamo per essere stato con noi anche perché insomma domani è altro giorno, altro giorno di tappe sarà una giornata intensa. Io a proposito del successo di Giulio Ciccone, Cristiano Gatti ha scritto anche del nostro Giulio. Poi tra poco facciamo vedere anche l'articolo che è uscito se non erro lunedì che prendeva le mosse dal successo a Cogne e dall'intervista successiva al nostro Giulio. Ci sono due Cicconi o è solo uno? Ci ha lasciato anche questo giro, ha aggiunto dubbio a dubbio. Noi abbiamo preso Ciccone con una grande speranza al ciclismo azzurro, gli abbiamo messo addosso il vestitino del dopo Nibali con tante speranze, con tante aspettative. Quindi un po' la colpa è anche nostra. L'abbiamo preso poi dalla Bardiani, una squadra piccola che valorizza i giovani dove poteva fare un certo lavoro, si è messo in luce, ha sfruttato benissimo e poi ce lo siamo ritrovati nella grossa squadra e sottolino anche con un grosso ingaggio perché funziona un po' come a scuola. Le aspettative sono in base anche a chi abbiamo davanti, per cui già senza tornare alla parabola evangelica si pretende in base ai talenti che si hanno. Siccome adesso Ciccone è entrato nell'orbita dei capitani o comunque dei leader, sia a livello contrattuale, con una grande squadra e con tutte le aspettative attorno e adesso anche con l'età perché non ha più 20 anni. È chiaro che noi adesso da lui ci aspettiamo di più, ci aspettiamo soprattutto di capire quale Ciccone è, se è quello che da ragazzo con una certa libertà si è inventato cose belle o se invece è anche uno capace di reggere il peso di una leadership, come si dice, con tutte le pressioni, gli obblighi di un capitano. Per cui qui vengo al punto, so che magari le cose che si dicono non fanno piacere ma si cerca di dire serenamente una propria opinione. Per me la vittoria di Cogne, che resta una bella vittoria perché vincere costa sempre fatica, per cui massimo rispetto, la fatica è fatica, però in chiave generale di valutazione di peso io non riesco a considerarla la consacrazione di Ciccone. Non è questa la consacrazione di Ciccone. Ciccone si consacrerà quando farà queste tappe come uomo da classifica, quando staccherà gli avversari diretti, quando lotterà per la maglia rosa. Lo sappiamo tutti, non è il primo. Tanti corridori sono usciti di classifica arrivando a mezz'ora, un'ora e poi magari si inventavano una gran bella tappa e una gran bella vittoria. Torno alla teoria dei due giri. Tu lasci il giro dei big, il giro dell'alta classifica, il giro della lotta per la maglia rosa e entri nel giro dei cacciatori di tappe, ma sono due sport diversi. Venendo al punto, perché non la voglio fare lunga per non stufare, Ciccone non ci ha ancora detto in quale dei due giri vuole essere qualcuno. Il sospetto che ci viene da questo giro ancora una volta deludente è che non sia pronto per essere un leader da giro uno. Io volevo aggiungere anche una considerazione, hai perfettamente ragione, anche in considerazione del fatto che però, c'è un però, questo è un ragazzo che tre, quattro stagioni fa aveva dimostrato di avere anche qualità, di essere un grande talento e probabilmente lo è ancora cristiano. Però poi arrivi in una grande squadra dove ti si trasforma tutto, programmazione, dietologi, biomeccanici e io penso che poi alla fine tutto questo lavoro interno di programmazione ci possa anche essere degli errori non dovuti solo dall'atleta. Io mi auguro, io mi auguro che dopo alla conclusione di questo Giro d'Italia ci si possa incontrare tutti, con la proprietà, i corridori, il dottore e tutte queste figure nuove che obiettivamente nel nostro ciclismo non esistevano e ognuno si deve prendere pure questa responsabilità verso quest'atleta perché a volte non è solo colpa dell'atleta cristiano, perché è possibile che ci sono anche altri componenti vicino all'atleta. No, sicuro, sicuro, scusa Luciano, l'unica cosa è che lui secondo me si è posto male da questo punto di vista perché dopo la vittoria cominciare subito con la tiritera, tutti mi vogliono male, questa è la rivincita contro le cattiverie, lui non deve considerare cattiverie, forse c'è qualcuno cattivo in giro che lui conosce, quindi io rispetto la sua posizione, però non può scambiare la critica doverosa, il rilievo doveroso per cattiveria e quindi assumere questo atteggiamento di rivalsa un po' astioso. Secondo me fa solo male suo, poi il ragazzo è grande abbastanza e decide come vuole, se vuole far la guerra al mondo è liberissimo ma ci mancherebbe, io rispetto, soltanto che secondo me è l'atteggiamento sbagliato ed è il momento sbagliato per tirare fuori tutta questa credine, sarebbe molto più importante che invece lui tranquillamente senza neanche badare tanto pensasse davvero a capire, a concentrarsi su quello che vuole diventare da grande, tutto qui, io un po' quello gli ho rinfacciato, l'idea di usare quella vittoria subito per regolare dei conti morali che mi è sembrato un po' fuori luogo poi, come ripeto lui è grande abbastanza, è padrone di sé per cui si accetta. Cristiano, prima di salutarti volevo un commento sul giro di Vincenzo Nibali, io dopo il blockhouse analizzando la super prestazione di Vincenzo avevo detto hai perso 4 minuti sull'Etna, mi auguravo che sul blockhouse ne perdesse ancora 4-5 per far sì che poi avesse veramente grandi chance per vincere una tappa ma secondo me se avesse perso 4-5 minuti anche sul blockhouse ne avrebbe potuto vincere due. Il suo giro è veramente spettacolare per quello che sta dando a 38 anni, adesso è quarto in classifica e probabilmente non vincerà una tappa perché è troppo vicino agli uomini di classifica, però il suo giro mi sembra veramente da 10. Guarda hai detto benissimo, quindi mi hai rubato le parole di bocca e quindi è inutile fare chiacchiere, devo dire che si è un po' incaprettato, come si direbbe in senso buono, però devo dire che essere quarti alla sua età in un giro cominciato così come diceva lui a fare i spenti è una cosa bellissima, che fa bene a tutti anche considerando il momento che sta vivendo il ciclismo italiano. È una bellissima catena che si è trovata al collo e giustamente hai detto tu perfettamente, questo gli ha impedito magari di avere qualche libera uscita come si dice per andare a vincersi una tappa, però se devo essere sincero ritrovarlo magari alla fine a Verona quarto a questa bella età nel momento in cui dice signori vi saluto, trovo che sia un bel modo di finire una grande storia, una gran bella storia e per questo io sono tornato ad essere tifoso di Dibali per l'ultima volta. Grazie a Cristiano Gatti, grazie per essere stato con noi, ovviamente buon finale di Giro d'Italia. Un saluto a tutti. Scusami Riccardo. Io l'ho fatto parlare tutta la sera perché figurati, però volevo salutare l'uccellino delle valle orobiche perché lui dovete sapere che va anche in bicicletta, vorrei stemperare anche questo clima di sapientoni, ma volevo dirti una cosa, mi sembra di vedere una chiesa lì dietro, ma sei andato a mettere un cero, a qualche santo perché domani ci sia un po' di battaglia o è una domanda fuori luogo? Ho fatto un voto perché il magro diventi finalmente una persona seria. Credo che potrebbe andare a vuoto questo voto, non lo so se è stato fatto con sentimento, con un bel cero grande di quelli un po' tutti. Il ciclismo italiano deve ringraziare il cielo di avere Magrini, una persona che ha fatto il ciclismo sulla sua pelle, ma che ha soprattutto una visione del ciclismo bellissima, tra il poetico e l'ironico ed è la visione che piace molto a me, per cui lo abbraccio anche se lui mi vuole così male, ma tanto lui lo sa. Va bene, grazie a tutti, ciao ciao. Grazie a tutti, ciao ciao. Noi siamo in ritardissimo, dobbiamo andare in pubblicità, ci andiamo subito, torniamo tra un po'. Occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Biale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano, salute, benessere, bellezza e prevenzione, da oltre vent'anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia, troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, grass, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Di nuovo insieme dopo la pausa ci siamo dati appuntamento a dopodomani a questo punto per capire se ci sarà qualche azione. Però bisogna anche dire, Ruggero, che questo è stato anche un Giro d'Italia divertente perché alcune volte, oggi l'ultima, il gruppo ha calcolato male il fatto di dover tornare sui fuggitivi e siamo stati anche in una tappa che non era difficilissima, col fiato sospeso ma ce la fanno a riprendere, ce la fanno, non ce la fanno, ci ha regalato magari emozioni dove noi neanche immaginavamo, forse c'era tolta qualcuna da qualche parte però ci ha regalate altre che veramente non ci aspettavamo. Infatti, vedi, bisogna prendere un po' tutte le sfaccettature di questo ciclismo che come abbiamo detto più di una volta è cambiato, no? Quindi è anche bello vedere, studiare quello che è, le situazioni che accadono anche in tappe particolari che magari all'inizio potevano sembrare normali, un semplice arrivo in volata in realtà oggi l'hanno studiata bene, i ragazzi che erano davanti avevano preso un paio di minuti il gruppo li teneva lì, era ormai un finale già scritto e invece sono stati bravi a risparmiare qualcosina davanti per poi dare tutto sullo strappo e quindi dietro chi inseguiva ha avuto parecchie parecchie difficoltà e per poco non sono stati ripresi e giustamente chi ha tratto vantaggio sono stati coraggiosi che hanno intrapreso questo cammino bello e se la sono giocati Riccardo, come dicevo prima, non è la prima volta che accade ma secondo te in una tappa come quella di oggi probabilmente a un certo punto, insomma, quando si entra nell'ultimo si passa la prima volta sotto lo striscione, io ho anche, oggi vi ho seguito, ho anche seguito poi il post, avete fatto rivedere gli highlights e ho fatto particolarmente caso i quattro fuggitivi a 13 km dall'arrivo, quando si passa per la prima volta sotto l'arrivo e poi c'è il giro che porta all'arrivo vero e proprio, hanno un minuto e 10, un minuto e 13 è possibile che in 13 km il gruppo non riesca ad organizzare il ricongiungimento con i quattro fuggitivi? cioè c'è stato in questi casi, oggi è l'ultimo, un errore di valutazione? ma non è il primo, perché se fai caso anche a Cuneo l'hanno presa a 600 metri la tappa di Reggio Emilia, De Bont aveva tentato l'assolo da solo, era andato via a 40 km in una fuga non partita dall'inizio ma a 40 km dall'arrivo e l'hanno presa a 2 km era solo, il gruppo secondo me oggi aveva lavorato bene, avevano lavorato le squadre dei velocisti molto bene all'inizio tenendoli lì a un minuto e mezzo e poi il crollo è stato poco prima di Cade del Poggio che c'è stato un errore di valutazione, forse anche le squadre dei velocisti non volevano fare un'andatura esagerata sul Cade del Poggio che è dura, una salita breve però abbastanza importante come pendenze dico, però poi dopo alla fine davanti c'erano dei pedalatori hanno sbagliato, hanno valutato male quelli che erano davanti perché Cornilson non è nella sua migliore prestazione, nella sua migliore condizione volevo dire, però è un signor corridore l'anno scorso ha fatto fuoco e fiamme vincendo tappe esagerate in maniera garibaldina, lo stesso Affini è un corridore che va forte a cronometro, noi abbiamo Ganna poi c'è subito lui Gaburo ha fatto una prestazione eccellente e De Bont è un altro che aveva già dimostrato di andare forte, quindi secondo me l'errore di valutazione è stata quella, non hanno pensato di tenere quel vantaggio perché poi a un certo punto sono andati anche quasi vicino a 3 minuti a 2.50 e un finale così lo hanno pagato anche nello sforzo perché non ci dimentichiamo che questo Giro d'Italia che per alcuni versi ho detto sono d'accordo con Cristiano ma è anche bello e entusiasmante per le tappe, lasciamo stare il discorso della classifica che mi trovo pienamente d'accordo sui 3 che dovrebbero 4 che dovrebbero essere quelli che lottano per la vittoria finale, però le tappe sono state belle, anche impreviste perché sono andati esagerati, la tappa di Cuneo hanno fatto un'ora e mezzo 56 di media dopo il Colle di Nava, andavano a 65-70 all'ora, davanti oggi uguale, hanno fatto una media stratosferica, sono arrivati molto prima del tempo previsto, le tappe sono state sempre tirate a velocità supersoniche, il tempo massimo lo hanno dilatato perché se no a questo Giro d'Italia la fine era la metà dei corridori che c'erano qua, perché hanno messo il tempo massimo a un'ora, ci sono dei corridori che hanno 5 ore di ritardo in classifica generale, vuol dire aver fatto una tappa in più anche di tempi, quindi bisogna guardare un po' tutte le cose, a me sinceramente per esempio la tappa che ha vinto Giulio, è stata una tappa bellissima, combattuta la fuga, poi lui è stato bravo, però ripeto a livello di spettacolo puro, se avesse aspettato a stancarlo, lui ha fatto 20 km da solo a Cogne, fantastico, però anche noi che la raccontiamo non sapevamo più a che cosa dire a un certo punto, io ho avuto tanti messaggi, siete mosci, sta vincendo un italiano, sì, ma il modo come l'ha vinto di prepotenza, di strapotere e ha battuto uno che Iucati per esempio abbiamo visto che nelle ultime 3-4 tappe è ritornato anche lì alle soglie della top 10 per dire, quindi ha fatto un numero, un numerone grandissimo e poi mi è piaciuto tanto, però ci siamo entusiasmati solo quando ha lanciato gli occhiali, cioè sto serrendo l'idea, quando ha fatto il lancio degli occhiali c'è stata un'esposizione. Da solo praticamente devi, giornalisticamente parlando, devi commentare un ragazzo, sto facendo un grande pomeriggio, ma non c'è nulla che non sia abbastanza evidente su come andrà a finire. Non c'è pathos, capisci, per quello, poi lui è andato fortissimo, ma non essendoci un discorso di classifica, essendoci solo il vincente, che noi ci ha fatto godere i massimi, perché noi l'aspettavamo questa vittoria di Cicco, poi oltretutto l'abbiamo visto lottare con Bohman per la maglia azzurra, ci sono stati tanti spunti nel contesto della corsa, però poi dopo alla fine, ora ti rimane queste due tappe, io sono convinto invece che domani ci sarà battaglia, contrariamente a quello che dice l'idratore della trasmissione. Allora, aspetta che dopo però ti devo fare una piccolissima reprimenda, una piccolissima reprimenda. Su cosa? Allora, te hai sempre detto, no perché c'è Luciano per cui tutte le salite sono facili, oggi, Luciano te lo dico, non so se l'hai sentito, ma il San Pellegrino tutto sommato non è complicatissimo. No, da quella parte lì. Da quella parte lì perché a te è più indigesto da Moena. Io Riccardo... Sì, ma allora lì c'è stato, giusto per spiegare magari a chi non ha visto, mi ha ripreso Moreno, Moser perché ha detto no ma è duro, secondo me la parte che fanno da questa parte, io poi l'ho fatta da tutte e due le parti, magari una volta stavo meglio dalla parte di Cianceniche, quella che affronteranno poi sabato e quindi per me mi sembrava meno duro che dalla parte di Moena, ma quello è un altro discorso, noi siamo sicuramente d'accordo che il Fedaia è la salita più dura. Io Riccardo sono 15 giorni che non dormo a pensare sul Fedaia, perché quando i corridori si troveranno a Malga Ciappela, io consiglio a tutti di non alzare assolutamente mai la testa, perché questa è la salita più dura d'Europa secondo me, io l'ho fatto tre anni al Giro d'Italia, a prescindere i miei giri sono tutti fatti da grande fatica, quindi i finali di Giri d'Italia per me sono stati sempre drammatici, ma veramente la marmolata, io non so come faranno gli atleti sabato ad affrontarla, perché mi rendo conto che sono al massimo della fatica tutti, però io ti vorrei dire a te Riccardo, perché vi seguo abbastanza tutti i pomeriggi, voi siete quasi convinti che Carapaz possa vincere questo Giro d'Italia, però io Riccardo non lo vedo così brillante Carapaz, lo vedo affaticato, lo vedo fa smorfie complicate, io Indle lo vedo lì tranquillo, bel colpo di pedale, non suda, respira appena appena, cioè vedo un corridore diverso rispetto a Carapaz. Ieri abbiamo visto la tappa insieme, io e te, abbiamo detto Landa un po' fa le smorfie, però un po' oggettivamente stava facendo fatica, Carapaz si vedeva che faceva fatica e io ti ho detto Indle gli sembrava che sia sul divano con la sigaretta in bocca a vedere gli altri due che salgono. Cioè io non lo vedo così favorito nella tappa di sabato Carapaz, perché effettivamente lui il Giro l'avrebbe già dovuto vincere, l'avrebbe dovuto vincere come ho detto prima sul blockhouse, l'ha provato a vincere nella tappa di Torino, però è rimbalzato indietro. Io penso che la Ineos in questo momento è molto preoccupato per questo finale di Giro, invece non lo so se sto sbagliando o meno Riccardo. No, io ti dico che non stai sbagliando perché la mia impressione è anche uguale alla tua, perché Indle è quello che va meglio, però bisogna che attacchi. L'altro giorno l'ha fatto con la squadra a Torino, però poi dopo la squadra è scomparsa improvvisamente, è venuta fuori la squadra di Landa. Landa ragazzi ha un minuto solo, non è che ha tre minuti. Quindi se Landa, che secondo me Landa è quello che va più forte in salita, potrebbero mettere in difficoltà con un attacco vero. Landa per me domani 40 km, però ce n'è 20 di discesa e poi dopo c'è la salita, che quel santuario lì è all'8%, quindi non è che poi… è vero che la prima montagna è a 40 km dall'arrivo, ma c'è anche tanta discesa. Se uno su quella salita lì ci fa veramente conto, perché quella lì è una salita dura, io lo so perché me l'hanno detto, è una salita dura. Se ci fosse qualcosa veramente nelle gambe… Te la faccio vedere proprio nel dettaglio perché diciamo che è divisa in due parti la salita, questo Colovrat che ovviamente essendo in territorio sloveno conosciamo molto relativamente, in due parti c'è una parte centrale in cui spiana e poi però è… è una salita che spiana e nonostante spiani ha il 9% di pendenza media, secondo me è un 10% tutto questa… e se ci fosse la volontà da parte la voglia, la gamba soprattutto, qui questo Giro d'Italia secondo me lo vince chi sta meglio, perché non è che c'è lo scatto o quello che ha la forza di fare l'azione, c'è grande ritmo e selezione naturale e qui c'è da vedere che magari come dici te Carapazza, non Carapazza, Carapazza perché se no mi sembri belli anche te e tutte le volte ti si dici Carapazza, non è Carapazza come lo dici te, è come Pogaccia, non è Pogaccia, tanto per… Tanto si stacca lo stesso, Riccardo si stacca uguale, non ti preoccupare, va tranquillo, no ma Carapazza… Sia l'uno che l'altro si staccano, vai tranquillo… Sì ma io ti vedo anche un po' tifoso e ti capisco, ma Indri, il problema di Indri è l'acronometro e se non lo stacca bene, l'acronometro ci perde, capisci qual è quello il problema, Indri domani dovrebbe fare un'azione e non aspettare il Fedaia, domani c'è la squadra ancora intatta con Kelderman che non mi sembra più neanche tanto a posto, Buchmann, Chemna, questi qui dovrebbero menare come ha fatto a Torino, su quella salita lì e lo mettono tutta la potenzialità che ha Carapazza in questi giorni, perché Carapazza ha addormentato la corsa in questi giorni con la squadra e sai perché? Perché aveva paura di Almeida, perché il problema dell'Ineos era quello di Almeida, perché avevano tutti paura che non si staccasse a sufficienza perché poi Almeida arrivava una ciabattata a tutti all'acronometro. Il problema di questi corridori secondo me è che si sono focalizzati sulla cronometro e essendoci poco di vario, allora hanno tutti paura a fare l'azione, per questo non c'è lo spettacolo come diceva Cristiano Gatti per quelli di classifica, è solo per questo motivo, ma te lo do per certo che Ineos aveva paura di Almeida, visto come era tutto contento oggi, un c'è più Almeida e siamo tutti tranquilli. Il problema è che però non sa che quella salita lì, almeno penso, lo sapranno sicuro, perché Tosato non è uno stupido, è un ottimo direttore sportivo e preparano bene le corse, ma come hai detto te, io non l'ho visto, in questi ultimi due giorni no, ma prima lui era in difficoltà. Sai che quando l'hai detto Riccardo io ho avuto la stessa sensazione, quando tu l'hai detto in telecronaca, oggi l'ultima volta, io ho avuto la stessa identica sensazione che Carapaz sia particolarmente contento perché non ha pagato Dazio, anche perché probabilmente nessuno si è accorto del fatto che non fosse il Carapaz pimpante che ci si aspettava, e lui nel silenzio si è riuscito a far passare la Burriana. Peraltro vi faccio vedere una foto, perché tra poco avremo un ospite insieme a noi, a proposito di Barei Vittorius, chi la conosce bene ovviamente è Jan Tratnik che non è più al giro, però sicuramente il Kolovrat lo conoscerà molto molto bene, ha fatto un post poco fa e probabilmente qualche suggerimento su come affrontare questa salita ai suoi compagni di squadra lo darà soprattutto ovviamente a Michelanda. Intanto diamo la buona serata, il benvenuto seppur in piattaforma nella nostra trasmissione, gli chiedo di ruotare il device in maniera orizzontale così lo vediamo proprio perfettamente. Jacopo, il device non lo capisce, il telefono lo deve mettere orizzontale. Però vedi che ha capito perché ce l'ha fatta, buonasera al direttore Stefano Allocchio, buonasera direttore. Buonasera, ma di lì a quel personaggio che c'è di fianco che so più di lui. Comentiamo subito la polemica qua. Ciao Stefano! Poco fa c'è arrivato un messaggio che ci pregavano, Riccardo ti prego non diventare una persona seria, noi possiamo rispondere al nostro telespettatore della casa che questo rischio credo non ci sia. Direttore, siamo a pochi giorni da Verona, noi abbiamo fatto un po' una disamina di quello che è stato, soprattutto in alto, in classifica, questo Giro d'Italia abbiamo detto, probabilmente le emozioni che ci aspettavano dai big ce le hanno regalate altri corridori con altre azioni in modo differente. L'ultima, questo pomeriggio, non è la prima volta che capita che il gruppo non riesca a capire bene quando rientrare sui fuggitivi. Abbiamo avuto un Van Der Poel, abbiamo avuto la sorpresa Girmai, delle tappe particolarmente interessanti, frizzanti. Cioè, le emozioni ci sono state dove probabilmente non ci aspettavamo. No, ma in effetti io non capisco certe persone che dicono che non è stato un Giro entusiasmante. Per noi è molto entusiasmante, anche perché mancano tre tappe alla fine e tra il primo e il secondo ci sono tre secondi. Ultimamente al Giro si decide sempre l'ultima tappa cronometro, quindi anche quest'anno siamo in linea con gli altri anni. Quindi, insomma, diciamo che non c'è particolare differenza rispetto agli ultimi anni. probabilmente però, direttore, forse qualcuno si aspettava, lo dico eh, perché gli appassionati di ciclismo si aspettava magari qualche scatto da, non dico dalla maglia rosa, però magari chi avesse voluto attaccarla? No, guarda, non sembra, ma gli scatti ci sono stati. Eh, però il fatto è che è un Giro veramente duro, è un Giro dove le forze si devono centellinare e anche i corridori di alta classifica fanno fatica. e quindi anche per loro devono cercare di, come si può dire, appunto come ho detto prima, di centellinare le forze e secondo me anche ieri si è visto, i migliori sono sempre lì davanti e centellinare e cercare di, 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 eh, poi si è visto anche con Van Der Poel, no? che è uno che, che non guarda, non guarda neanche, non guarda niente, quindi parte e va. e quindi cercare di, eh, effettivamente è un Giro veramente duro, con salite veramente dure, e tra domani e dopodomani sicuramente, eh, qualcuno, qualcosa, qualcuno dovrà fare. perché, eh, se uno vuole vincere il Giro, eh, aspettare l'ultima tappa a cronometro, eh, è veramente, è veramente un enigma. Se la rispiamo. Esatto. Stefano, buonasera, innanzi, eh, sono Luciano Rabottini. Ciao, ciao Luciano. Ti ringrazio innanzitutto per la parola. Un nostro compagno di gruppetto, eh, lui, perché qua si parla, ma c'è, qui c'è gruppetti. Ma noi, ma noi, parlare di quelli che sono davanti è difficile, Riccardo, eh. Ascolta Stefano, nella presentazione del Giro, alla vigilia di questo Giro, c'era chi criticava l'assenza, eh, di Pogacar, di Roglic. Eh, io ho detto, guarda, fortunatamente non ci sono questi personaggi, perché probabilmente, eh, ci sarebbe stata una corsa molto, ma molto diversa da quella che c'è stata. Se oggi, eh, siamo a tre giorni della fine, eh, non sappiamo nemmeno chi potrà vincerlo questo Giro d'Italia. Questo sta a dimostrare che la partita era aperta, era aperta a tante persone. Qualcuno sono andate a casa, però io ritengo che questo Giro effettivamente ha dato emozioni e soprattutto, eh, ci si appresta a questi ultimi tre giorni con grande entusiasmo. Quindi, io ritengo che il Giro è piaciuto, sta piacendo. Complimenti anche a questa edizione di questo Giro, perché è stato un Giro particolarmente duro. Oggi ho sentito che ci è mancato qualche chilometro a cronometro per far sì che la distanza alla vigilia di queste tre tappe fosse un attimino, eh, più abbondante. Però, eh, ritengo che, eh, ad oggi è stato un Giro veramente... Poi, un'altra considerazione, è stato un Giro bellissimo da parte del pubblico. Tantissima gente, eh, tappe, eh, con un pubblico caloroso e ritengo che il Giro d'Italia, ma il ciclismo in generale, avesse bisogno di ritorno del pubblico. Quindi vi ringraziamo per quello che avete fatto e che state facendo. Allora, guarda Luciano, due cose. La prima, l'hai detto giustamente te, se, eh, se tu, eh, mettevi tante tappe, un po' più di tappe a cronometro, un po' più di tre, non è che puoi farle, ovviamente. Qualche chilometro in più, qualche chilometro in più. Sì, però devi calcolare anche questo. Eh, se mettevamo anche un cronometro a, a mezzo giro, eh, non era un Giro a vincente, poteva essere già chiuso. Invece così, per gli appassionati, è un po' più, eh, un po' più, un po' più bello, un po' più indeciso. E, guarda, oggi, per esempio, per il pubblico, oggi una tappa, diciamo, eh, per velocisti. Eh, dalla partenza all'arrivo, eh, c'è stato un pubblico eccezionale, veramente, non era, era anche ora che, dopo questo, dopo questi due anni di pandemia, ritrovare il pubblico. Eh, le due tappe fondamentali, veramente, per noi, sono state Napoli e Torino. Eh, la persona, la gente può dire, eh, ma Napoli e Torino. Ma Napoli e Torino sono state le vere tappe del, 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 di questo giro. Eh, con un'affluenza di pubblico eccezionale. E anche nelle grandi città si possono fare delle grandi, delle grandi corse. Eh, chiedono da casa, Stefano all'occhio, se e come sono cambiate le volate? Anche perché vogliamo ricordare che Stefano è stato un corridore che le ha vinte le tappe in volata al Giro d'Italia, quindi, intelligentemente, il telespettatore si è ricordato della storia di questo grande personaggio. Non cambiate le volate. Eh, grazie del personaggio. Ma, guarda, le volate, alla fine, sono sempre, sono sempre quelle, nel senso che, eh, uno mette davanti la squadra, oggi, hanno tentato addirittura, eh, negli ultimi chilometri, dopo il muro del calo del Poggio, pensavamo che qualche corridore si potesse staccare di, di, di velocista. Ma i migliori velocisti sono sempre, sono stati tutti davanti. Le squadre hanno, hanno tirato, sia la, la UAE, ha tirato la, la squadra di De Mar, ha tirato le, tutte le squadre, la, la Quistep. Quindi, hanno cercato di, eh, di, 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 di riuscire a prendere questi fuggitivi. Ma ti posso assicurare che io negli ultimi, diciamo, 30, 30, 30, 40 chilometri, la, la lancetta del, del contachilodono è mai scesa sotto i 60. Perciò i primi hanno fatto un, 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 un coppolavoro, oggi, eh. Eh, ascolta Stefano, ma per il prestigio di RCS, per il prestigio del Giro d'Italia, per voi, eh, quale di questi tre corridori vi piacerebbe che vincesse il Giro? Carapas, Indle e Olanda? Ma guarda, chi vince c'ha sempre ragione. Eh, per noi uno vale l'altro. I, quelli che mancano, eh, eh, per esempio, cioè, faccio un, non un esempio, ma chi si è ritirato per noi, cioè, guarda Vincenzo, Vincenzo all'inizio del Giro, dopo, dopo il, dopo la, dopo la, la quarta tappa sua all'Etna, sembrava, sembrava ormai, eh, perso. Eh, guardi la classifica, Vincenzo è quarto. Quindi, attenzione a Vincenzo, è vero che c'ha un bel po' di minuti, però Vincenzo può, eh, è un lottatore che fino alla fine può, può dare qualcosa ancora a questa, questa manifestazione. Stefano, eh, domani andrete in Slovenia, eh, andate a trovare... Sì, magari avremmo detto patria di ciclismo. Sì. Ma che hanno fatto? Guarda che l'anno scorso, l'anno scorso abbiamo fatto, eh, il circuito con, eh, tre giri in Slovenia e ti posso assicurare che, eh, eh, si vede che in Slovenia c'erano delle restrizioni diverse dalle nostre. C'era un pubblico che era una roba impressionante. Quest'anno io con Rocco Lozzi, che è il nostro referente per la Slovenia, abbiamo veramente un buon rapporto e sicuramente anche su, come vedi l'altimetria, abbiamo pochi chilometri in Slovenia, però abbiamo anche quest'anno cercato di mettere la Slovenia perché il folto pubblico che c'è stato l'anno scorso ci ha veramente entusiasmato e quindi abbiamo riproposto anche un tratto di Slovenia anche quest'anno. Andati in Slovenia per invitare Pogaciar per il prossimo anno, Stefano? Eh, adesso, adesso pretendi un po' troppo. Ok. Ricchiardo! Eh? Eh? Ricchi, 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 ricchi stai buono perché se no ti stacco in salita, eh? No, volevo sapere da Stefano chi sei domani ospite in macchina. Eh, il tuo amico non può venire purtroppo domani. Eh, allora rompirla. Perché, eh, no, lo sai il motivo perché ha vinto la Roma e quindi è potuto andare a Roma per i festeggiamenti. Eh, beh, allora. puoi dire chi era puoi dire buonemente chi era Fabio Caressa è un appassionato di ciclismo e segue sempre il Giro d'Italia e gli sarebbe piaciuto andare a vedere una tappa da vicino ti farò vedere i messaggi che mi ha scritto Fabio ve lo immagino è dispiaciuto c'era le lacrime di sicuro e quindi era sapevo che domani sarebbe andato lì ma immaginavo che per impegni di lavoro non può sarà per un'altra volta comunque sei già prenotato me lo immaginavo devo dire che mi dispiace che finisce il Giro d'Italia e tu non puoi essere presente a quella bella manifestazione che l'anno scorso ti ha visto vincitore davanti a chi io? davanti a me però abbiamo fatto primi e secondi e abbiamo doppiatene quindi mi dispiace tantissimo che non ci sei però terrò alto il vessillo e cercherò di doppiarli stavolta bravo bravo allora ci chiedono poi noi faremo le nostre uscite eh quello sicuro non vedo l'ora ci chiedono Stefano quale volata ti ha fatto più male perdere? guarda quella di oggi quella dove siamo partiti oggi oggi siamo partiti dal dal Trentino da è stata una tappa che eravamo partiti da Innsbruck e manco a farla posta mi batte al Fotofinish Gambirasio che tra l'altro è un nostro collaboratore e oggi abbiamo rivisto un momentino quella tappa a Borgo Lugana che che mi batte in volata ecco forse quella è quella che più no beh no beh forse un'altra ancora al Tour de France che è una di quella età di una dei grandi giri che non sono riuscito a vincere al Tour ho vinto al giro ho vinto la vuelta ma al Tour non sono riuscito mai a vincere sono riuscito sempre secondo o terzo ecco quello forse un più dispiacere un po' più un più grosso non essere riuscito a vincere al Tour de France prima di salutarvi perché poi nell'ultimo quarto d'ora parleremo di un'iniziativa che ci sarà tra qualche giorno che riguarderà la nostra costa triatica direttore da qualche parte arriva il sentore che 2023 il Giro d'Italia insomma potrebbe avere come partenza una regione in cui noi siamo adesso che ci piace particolarmente cosa ti devo dire non lo so una risposta qualunque questa sia la verità preferibilmente o anche una sottile bugia ha già risposto eh sì è certo che ha già risposto cioè non è che poi ci voglia però perché Stefano è una persona genuina capisci quindi non fatevi non createvi false illusioni e facili cose intanto c'è anche Otello e Isotta che sono arrabbiati per queste domande insulse non si fanno queste domande Jacopo allora il Giro 2023 parte dall'Abruzzo? ma è continua ci si lavora ci si lavora bene bene ci basta ci basta e avanza come risposta Ruggero sarebbe sarebbe bello bellissimo eh assolutamente oh Ruggero ciao io ascoltavo ascoltavo avevi una domanda no beh ci sono altre veramente adesso a parte gli scherzi ci sono ci sono altre candidature sicuramente eh veramente come ti stavo dicendo stiamo lavorando per un progetto molto importante e quindi a breve fra un paio di mesi sicuramente come faremo come facciamo di solito faremo una presentazione della grande partenza ecco Ruggero avevi una domanda per Stefano Locchio una considerazione su questo Giro anche su su questa notizia che ci ha dato insomma che l'Abruzzo è tra le candidate di ospitare per quanto riguarda l'Abruzzo negli ultimi anni ho visto che si è data grande importanza e quindi complimenti a chi a chi ci ha lavorato su complimenti a RCS per quanto riguarda il Giro il commento di Stefano è in linea con quello che ho fatto io prima ovvero che è chiaro che il ciclismo piano piano è cambiato per tutto tutto quello che abbiamo sempre detto per le medie per i materiali anche per come l'avvicinamento ai grandi giri quindi i misuratori di potenza e quant'altro però la verità è che siamo a tre giorni dalla fine che abbiamo una classifica corta e c'è tanta incertezza e quindi questo è importante per i fini dello spettacolo perché non sappiamo e non immaginiamo chi possa vincere perché abbiamo tre corritori con tre profili diversi che possono vincere possono vincere il Giro assolutamente noi ringraziamo Stefano Allocchi a cui diamo un buon finale di Giro auguriamo un buon finale di Giro grazie del Toro per essere stato con noi grazie a voi grazie Stefano grazie Stefano ringrazio 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 a tutti voi perché ho ritrovato dei amici di avventura quindi Riccardo lo lasciamo a parte perché Riccardo ci vediamo quasi tutti i giorni ma Luciano veramente eravamo come ha detto prima compagni di gruppetto quindi compagni di fatica compagni di fatica non posso dire non sembra un gruppetto molto avanti non sembra un gruppetto non posso dire Stefano Stefano io dicevo prima Riccardo io ho 15 giorni che non dormo perché dopo domani c'è la marmolata io sulla marmolata no ma però perché io sulla marmolata a quei tempi c'erano anche le spinte che ci salvavano un po' il pubblico che ci veniva dietro ti ricordi ma guarda io ho avuto una brutta esperienza sulla marmolata ero ero in squadra con Moser e un giorno ci disse venite su tra l'altro tu conosci bene Francovona e Jurko e fa dovete venire a casa mia che dobbiamo andare a provare il percorso del giro abbiamo fatto 200 chilometri di allenamento facendo Bordeaux e Marmolata ti dico abbiamo fatto tanta di quella fatica in allenamento che poi in in corsa come hai detto per fortuna c'erano c'erano i tifosi che ci spingevano adesso adesso è un po' più complicato va bene grazie direttore per essere stato con noi buon giro Riccardo grazie anche a te ti lasciamo libero così domani ti seguiamo pimpando sono fresco domani sono così sono fresco esatto noi aspetti aspettiamo e ti aspettiamo ovviamente anche giovedì prossimo ciao Ruggero ciao Lustano ciao Jacopo ciao buona serata a tutti buona serata a tutti buona serata a tutti noi ci fermiamo per l'ultima volta questa sera poi rientriamo per l'ultima parte di velo 25 anni di attività agonistica 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi rabottini cicli sport bici da corsa mountain bike gravel e tutta la linea e-bike rivenditore ufficiale scott bergamont e bh abbigliamento tecnico scarpe occhiali ciclo computer cardio frequensimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata se vivi di passione se pedalare è ciò che ami allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo Viale Matrino 31 resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram Farmacia Ferroni a Montesilvano salute benessere bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio a Montesilvano in via Vestina 187 www.farmaciaferroni.it 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 Grazie a tutti. È una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici CleanDex sono adatte a levigare marmo, granito, gress, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da CleanDex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. CleanDex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. CleanDex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Grazie a tutti. Ultima parte di Velo per questa sera. Abbiamo salutato anche il nostro Ruggero Marzoli che tornerà a farci compagnia nelle prossime puntate. Diamo la buona serata a Filippo Catania. Ciao Filippo, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Per parlare della manifestazione che si svolgerà il 2 giugno, la biciclettata e pattinata adriatica. Peraltro giorno di festa, 2 giugno, festa della Repubblica. Ecco qua. L'arrivo, non vi spaventate se l'arrivo vedete a Pineto che è tra Pescara e San Benedetto, perché in realtà ci saranno due, tra virgolette, due gruppi. Partiranno uno da nord e uno da sud e lì si troveranno. Spiegaci un po' che giornata sarà questa sulla ciclovia adriatica, leggiamo, per una mobilità sostenibile. Certo, certo, ma permettimi di dire, Jacopo, che goduria sentire e vedere i campioni del recente passato. Campioni anche oggi. Ebbene sì, la biciclettata adriatica partirà... Tutto grande il conduttore, cioè quando tu parli di ciclisti, esperti, fai riferimento a tutti gli altri che non siano il conduttore, ovviamente. Ma guarda un po', vabbè, ma tu sei un campione per un'altra cosa. Quindi diciamo che il 2 giugno partirà l'undicesima edizione della biciclettata e pattinata adriatica che avrà, come hai detto bene, due punti di partenza da San Benedetto e a sud da Pescara per trovarsi a Pineto. L'intento di questa Carmes, di questa passeggiata in bicicletta, è focalizzare l'attenzione appunto sulla ciclabilità urbana ed extraurbana, anche in ragione della costruenda ciclovia adriatica che è parte integrante del sistema delle ciclovie turistiche che è stata istituita con la legge 2 del 2018, la legge si chiama Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Quindi avremo questa dorsale che ovviamente attraverserà il nostro territorio. La partenza da Pescara verrà dalla piazza Primo Maggio, comunemente conosciuta come Nave di Cascella, ed è la tappa fino a Montesilvano, è stata organizzata da noi di FIAB Pescara Bici e poi da Pescara Pattini e dall'Avis comunale di Pescara. Dicevo, la prima tappa sarà a Montesilvano, proprio a Porto Allegro, dove abbiamo in programma di incontrare i sindaci di Montesilvano, di Silvi, di Città Sant'Angelo, con i quali vorremmo così parlare, e da loro vorremmo conoscere i programmi per l'apertura del ponte sul Piomba, che proprio per la ciclovia adriatica è uno snodo importante per tutta la mobilità ciclistica. Speriamo che sia dedicato questo ponte alla ciclopedonalità, perché passare sulla nazionale per i ciclisti, ma anche per chi va a piedi, è davvero impegnativo. Quindi vedremo, questo sarà un aspetto importante di questa prima tappa. Dopodiché arriveremo a Pineto, laddove ci sarà una grande festa con i due cortei che si incontreranno, e c'è il sindaco di Pineto che ci saluterà, ovviamente poi ognuno potrà tornare, come crede, nei luoghi di partenza anche con il treno, perché abbiamo allertato sia tua che Trenitalia, che ci potrebbe essere un notevole afflusso di persone con la bici al seguito, di passeggeri con bici al seguito, e sappiamo che i treni si stanno attrezzando per portare anche le bici. Certo. Per partecipare, Filippo? Per partecipare basta essere lì entro le 10 con una bicicletta in buone condizioni, perché molto spesso ci capita di dover fare manutenzione prima della partenza. Se ci si pensasse un po' prima sarebbe meglio, sarebbe meglio così gonfiare le ruote, avere i freni a posto, la trasmissione a posto, dopodiché si può pedalare tranquilli. E soprattutto noi raccomandiamo l'uso del casco, che non serve mai, ma una volta si cade dalla bicicletta e quella volta magari il casco riesce a salvarci. Il casco al netto, insomma, di che tipo di avvenimento si tratta, comunque indicazione, mettetelo sempre, perché insomma, al di là del fatto che possa o meno essere qualcosa di competitivo, però insomma, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. E poi è buona norma anche da un punto di vista culturale, sapere come quando salite in macchina e vi allacciate la cintura, altrimenti suonano mille allarmi, così fate conto che suoni l'allarme anche quando non mettete il casco. Senti Filippo, rapidissimamente ti chiedo se queste tematiche relative alla mobilità sostenibile, un po' negli anni c'è stato un riscontro maggiore, soprattutto per il fatto che l'utilizzo della bicicletta oggi probabilmente ha ampliato il range di utenti che ha capito probabilmente, non so se è in ritardo o nei tempi giusti, il valore di una mobilità su due ruote senza motore. Beh, ultimamente dobbiamo paradossalmente ringraziare gli eventi veramente incresciosi, bruttissimi che ci sono capitati, ma al di là di questo va aumentando la coscienza, non già per l'uso della bicicletta che pure è auspicabile, quanto per la tutela dell'ambiente. I cambiamenti climatici non sono più un'ipotesi, purtroppo, e per cui uno degli strumenti per combattere l'inquinamento e per combattere i cambiamenti climatici, uno degli strumenti è proprio la bicicletta, perché oggi a Reggio Emilia c'è stato un grosso convegno di tre giorni, mobilità, nel quale l'argomento principale è stato eliminiamo o comunque diminuiamo il numero delle automobili circolanti, perché nelle città, nei centri urbani, soprattutto sono il principale fattore di inquinamento, ma vorrei aggiungere di insicurezza, perché davvero è di oggi pomeriggio l'ennesimo incidente e oggi, sentivo il telegiornale, abbiamo avuto 1200 morti nel 2021 sul posto di lavoro, ma dei 3400 morti per incidenti stradali all'anno, se ne parla un po', o così passano molto, e quindi questi sono problemi grossi, reali, che fanno sì che scegliere un mezzo alternativo per muoversi è assolutamente necessario, oltretutto facciamo anche prima di arrivare in città, io che non ho l'automobile, che vado sempre in bicicletta, sono molto veloce nel raggiungere i miei obiettivi, i posti dove devo andare e soprattutto non ho problemi di parcheggio e riscarmi un sacco di soldi, ve lo giuro. Va bene, giovedì 2 giugno, rivediamo la locandina, eccola qua, biciclettata e pattinata adriatica sulla ciclovia per una mobilità sostenibile, due partenze da San Benedetto del Tronto e da Pescara, ovviamente ci si ritrova tutti più o meno alle 13 a Pineto, insomma vi consigliamo di farvi una passeggiata, peraltro è un giorno particolare, perché Festa Repubblica, la sera c'è veloce, e quale miglioramento? Potremmo andare anche noi? Sì, anche noi. Io guarda, io ti dico la verità, io stamattina sono uscito, sono disintegrato, sono distrutto, ho fatto un'ora e tre quarti in piedi, mi stanno accendo le gambe, peraltro, per chi insomma avesse visto la presentazione, era visto anche il collegamento di Giulio Ciccone, però Giulio ti ha appena mandato una nota audio? Sarà presente giovedì prossimo, perché è rientrato in albergo mezz'ora fa, quindi siccome i ciclisti oggi dopo la tappa hanno dovuto fare un trasferimento di 170-180 km, e tra l'altro anche sulle autostrade c'era tantissimo traffico e sono arrivati adesso in albergo, quindi abbiamo un impegno per giovedì prossimo con Giulio. Assolutamente, noi lo salutiamo, gli auguriamo un buon finale di giro, sperando magari, chissà, che in queste due tappe ci regali una soddisfazione. Ti fiamo per Giulio. Ti fiamo per Giulio. Assolutamente sì, vediamo i prossimi appuntamenti, Maurizio, con l'ausilio della grafica, eccoli qua, 29 maggio, Blockhouse Marathon che abbiamo presentato settimana scorsa a Pacentro, poi BDV Enduro Race a Bocca di Valle, eccolo qua, e sono questi? Poi c'è altro, Maurizio, credo di no. No, poi il 2 giugno si passa già la settimana successiva. Va bene, io ringrazio Filippo Catania, ciao Filippo. Grazie a voi, ciao. Grazie a te ovviamente. Grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo, 2 giugno proprio. Sì, ci vediamo giovedì prossimo e sicuramente giovedì sapremo che ha vinto questa edizione del Giro d'Italia. Assolutamente, godetevelo fino alla fine, fino all'Arena di Verona, fino alla cronometro. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito sul canale 13 del Digitale Terrestre, dove torneremo tra una settimana, sempre, alle 21. Buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.